Si è svolto questa mattina un nuovo sopralluogo presso l'ospedale Landolfi di Solopra. Il sindaco Nicola Moretti, accompagnato dagli esponenti della sua amministrazione, è stato invitato dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti, a visionare i notevoli avanzamenti dello scommio ormai giunto al termine. Alla fine della visita è stata comunicata al primo cittadino la notizia dell'imminente apertura dei primi reparti di Landolfi, prevista la prossima settimana. Finalmente la tesa è finita, questo è il commento del sindaco Moretti. Il nostro ospedale riapre. Nei prossimi giorni, come è comunicato dalla direzione strategica del Moscati, è in programma una prima inaugurazione. Da qui a giugno a Step verranno riattivati tutti i reparti. Il primo cittadino di Solopra ringrazia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il manager dell'ospedale Moscati, Renato Pizzuti, per aver mantenuto le promesse. Sono stato testimone, giunge Moretti, del notevole impegno profuso di entrambi per portare a termine la nuova programmazione sanitaria che consentirà il rilancio dell'Andolfi, punto di riferimento sanitario non solo per Solopra, ma per tutto il comprensorio della Valle dell'Irno. Sarà per me una giornata particolarmente importante, commenta ancora Moretti, in qualità di vice sindaco, partecipai alla prima inaugurazione dell'ospedale, oggi nelle vesti di sindaco, assisto alla sua rinascita. Infine il primo cittadino promette di continuare a fare da stimolo all'amministrazione regionale, affinché la nuova offerta sanitaria prevista all'Andolfi, venga completata in ogni sua parte, così come è pianificato.